Dopo gli interventi degli scorsi giorni su Cilento Channel, di vari sindaci cilentani sul tema ospedale di Agropoli, come il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, il sindaco di Vallo della Lucania, Tony Aloia, il sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo, il sindaco di Riutino, Giuseppe Rotolo, è intervenuto con il suo punto di vista sulla questione anche il primo cittadino di Pollica, Stefano Pisani. Dalle parole dei vari sindaci era partita un'unica voce che evidenziava la necessità del territorio di avere il presidio ospedaliero agropolese attivo e funzionante, anche sostegno verso la battaglia portata avanti da Damo Coppola per il presidio. Anche dall'intervento di Stefano Pisani è trapelata l'esigenza che ha il Cilento dell'ospedale di Agropoli, ma soprattutto l'esigenza di doverlo reinventare come struttura. Finalmente l'ospedale di Agropoli è stato risistemato ed è adeguato per ripartire, però ad Agropoli penso in un altro modo, deve divenire un luogo dove si effettuano cure specialistiche. Queste le parole di Pisani, farlo diventare specializzato per alcune tipologie di tumore, deve avere un pronto soccorso efficiente che lavora 24 ore su 24. Ci serve la forza di spingere una nuova proposta di utilizzo della struttura subito dopo la fine dell'emergenza. Come classe dirigente, conclude Pisani, non ci possiamo limitare a protestare, ma dobbiamo dare indicazioni e non sperperare le risorse.